Musica Noi abbiamo bisogno dei sistemi naturali, non i sistemi naturali di noi. Noi possiamo sparire, il mondo continua ad andare avanti. Che come se qualcosa che è biodegradabile allora va a finire in mare, può andare a finire in mare o deve andare a finire in mare. Tutto deve essere raccolto perché questo non è una licenza alla discarica, perché qualsiasi prodotto gettato in natura è un fattore di pericolo. Mater B disintegrate in tutti i quattro sedimenti e la half-life di Mater B è da due mesi a un anno. Dalle indagini effettuate, gli elutriati, quindi gli estratti ottenuti dai sedimenti marini che abbiamo esposto per 6 e 12 mesi a Mater B all'1%, non hanno mostrato effetti tossici in nessuno degli organismi modello analizzati. Vorrei appunto ritornare a un tema che a me è carissimo, che è quello del suolo. Perché in realtà proprio per aver fatto poca attenzione a un ambiente come quello del suolo, siamo poi andati a finire a creare dei grandissimi problemi all'acqua e dobbiamo cercare di promuovere dei progetti comuni che permettano di approcciare l'economia in modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora.